Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova recensione dedicata a un action cam che mi ha lasciato a bocca aperta. Innanzitutto mi scuso per l'immagine di un po' tremolante ma ho avuto un piccolo problema con il cavalletto. Allora vi dicevo in questa video recensione vi parlerò di un action cam che credo senza avere paura di essere smentito può competere con le sue rivali di settore di alto livello. Per quale motivo? Seguitemi nella mia video recensione e vi spiegherò perché. Allora eccola qua sto parlando della action camera della Apeman o Apeman modello A80. Come vedete caratteristiche principali 4K Ultra HD, 40 metri di profondità grazie al suo grado di protezione estremamente elevato, controllo wifi e funzione timelapse. Ma queste sono solo alcune, ripeto, alcune delle funzioni di questa action cam davvero davvero sorprendente. Soprattutto per quello che poi vedrò alla fine è essere il suo rapporto qualità-prezzo. Allora andiamo innanzitutto a fare come vi ho detto l'unboxing. Eccoci qua. Apriamo da qua. Come vedete al suo interno c'è un piccolo piccolo gioiellino, cioè una pochette da viaggio, togliamo la scatola che non ci interessa più, che vi permetterà di portare comodamente con voi la vostra action cam, avendo a disposizione tutto il set di accessori al suo interno davvero davvero utilissimi. Allora andiamo ad aprirla. Naturalmente mi scuserete perché sono una mano sola, è un'impresa da acrobati. Eccoci qua all'interno della confezione. Come vedete gli accessori sono davvero tantissimi e la prima cosa che colpisce all'occhio, oltre alla telecamera che ora andiamo a vedere nello specifico, sono le due batterie in dotazione. Allora, per avere una carrellata generica di quelli che sono gli accessori a disposizione, immaginatevi che all'interno di questa pochette avrete l'action camera, la custodia impermeabile, la custodia per il trasporto, la staffa per la custodia subacquea, il clip multifunzione, il kit di montaggio per poterla applicare sulla vostra bici, il kit di montaggio per l'applicazione sul casco, un cavo USB, la doppia batteria da 1050 mAh e un manuale multilingua per poterla gestire al meglio, di tutte quelle che sono le sue funzioni e soprattutto poi poterla collegare con il vostro smartphone. Allora, parliamo un pochino di caratteristiche strutturali prendendo l'action cam e vediamo se ci riusciamo provando a toglierla dalla confezione impermeabile, così andiamo a vedere nello specifico questo piccolo gioiellino. Allora, togliamo qua la piccola pochette, ecco qui il gioiellino, vedete? Questa è la Apeman A80 4K Wi-Fi, dimensioni 5 cm x 4 x 2 cm, 5 cm di larghezza, 4 cm di altezza e 2 cm di profondità. Come potete vedere sul lato destro ci sono i comandi funzione su e giù, sul lato sinistro c'è la mini HDMI e l'ingresso per poter collegare poi il cavo USB, ma anche lo slot per la microSD. Poi c'è l'ottica frontale, il tasto mode e di accensione e il pulsante OK nella parte superiore. Anche per quanto riguarda il touch and fill, nella parte perimetrale della telecamera c'è questo effetto, vediamo se riesco a farvelo vedere, zigrinato, che crea un grip molto molto piacevole. Allora, parliamo un pochino di prestazioni. Questa A80 supporta video 4K e 2K, fotografie da 20 megapixel e ha anche la possibilità con il suo Wi-Fi integrato di essere controllabile tramite l'app, che vi dico subito, nel manuale è indicata con il nome di OKCam, io vi dico, ho dovuto invece installarne un'altra versione, perché questa non riuscivo a farla funzionare. Poi, impermeabile fino a 40 metri, ve lo accennavo all'inizio della mia introduzione, grazie al grado di protezione IP68. Ha il girostabilization, che può tracciare il movimento, ridurre la sfocatura durante la registrazione, c'è l'impostazione con la modalità multipla, per la registrazione in loop, timelapse, arrivamento in movimento, modalità immersione e così via. Poi ci sono, abbiamo detto, 20 accessori e 2 batterie di corredo, che vi permetteranno un'autonomia di circa, io sono riuscito ad arrivare alle 3 ore senza problemi, di registrazione continua. Che cosa dire dal punto di vista delle prestazioni? Allora, la telecamera davvero è eccezionale, ma non ve lo dico perché si tratta di un prodotto che ho in questo momento acquistato nelle mie mani, ma semplicemente perché in paragone ai prodotti grandi di settore è davvero molto, molto competitiva. Pensate che addirittura avrete un quadrangolare a disposizione da 170 gradi. Mi sono trovato benissimo, l'immagine è stabilissima in tutte le condizioni. Ecco, adesso ho perso il fuoco, vediamo se lo recuperiamo. Ecco qua, così vedete il design completo. Ma quello che mi ha sorpreso più di tutti è che avrete la possibilità, se vi sbrigate, di farla vostra a meno di 60 euro. Avete capito bene? Meno di 60 euro. Io credo che per un prodotto di questa natura sia davvero il miglior rapporto qualità-prezzo oggi presente sul mercato. Quindi è un prodotto che mi ha stupito molto, naturalmente non stiamo parlando di top level di questo settore, ma che davvero riesce a competere sotto molti punti di vista. Quindi se state cercando un prodotto da potervi portare in vacanza, nelle vostre attività sportive, senza spendere una fortuna, la Action Cup A80 della Etma è davvero un prodotto che mi ha stupito. Per cui per questa video recensione direi che per il momento è tutto. Andromedi vi saluta e vi rimanda alla prossima. Ciao a tutti!